Buongiorno, sono Daniela Bonabitacola, titolare del centro estetico QB a Milano, in via Nino Bonette, zona a stazione Garibati dietro Corso Pomo. Il mio centro è formato da quattro cabine dove vengono sviluppati sia i trattamenti viso che i trattamenti corpo con apparecchiature di ultima generazione. È specializzato su un discorso posturale in quanto mi avvalgo anche della consulenza di fisioterapisti e medici. La mia promozione in questo momento è quella di offrire tre breast terapie, tempo 30 minuti per applicazione, seguita anche da un piccolo massaggio che dura circa 15 minuti. Poi è un bellissimo trattamento di peeling all'oro che dura 60 minuti. È diviso in tre fasi, la prima fase dura un quarto d'ora circa perché viene fatto lo scrub e dopo lo scrub viene fatto un massaggio. Dopodiché la cliente viene a parte di un fango composto da vitamine, da olio di jojoba e degli estratti di polvere di caviale. Questa posa dura 30 minuti. La cliente a termine deve fare una doccia e un ulteriore massaggio di altri 10 minuti e un quarto d'ora. È un trattamento anti-aging, è una della pelle molto morbida, molto idratata e molto nutrita. Verranno colpolate nel miglior modo possibile, verranno seguite in maniera che non si sentiranno sufficientemente esclusi perché hanno acquistato un coupon con uno sconto notevole. Loro saranno seguite come tutte le persone che invece pagano una cifra completamente diversa. Grazie a tutti.